Questo è il mio nuovo singolo Emozionante per questo penso per la prima volta davanti a un pubblico per la mia volta a Milano È il mio primo live a Milano ragazzi Inizio di coniglio, c'è un'atmosfera così strana e profonda, l'anario c'è tal E sento freddo, però mi sento meglio se mi nuoti dentro Nei labirinti di questa città e delle nostre menti complicate Ci siamo fatti di caramelle che fanno tornare i lavori Solo per restare qui a parlare a tutte le ore di 24 ore